Miracolato, è proprio il caso di dirlo, una 79enne precipitato per 40 metri con la sua auto in una scarpata a Villa di Chiavenna ed uscito sano e salvo dal mezzo ridotto a un cumulo di lamiere. L'incidente oggi, martedì 12 aprile, poco dopo le 9, l'uomo, originario del paese ma da tempo residente a Chiavenna, stava salendo verso la frazione di Canete quando, forse per una distrazione, dopo un paio di tornanti, avrebbe perso il controllo della sua Fiat Panda che, uscita di strada, si sarebbe ribaltata più volte finendo la sua corsa contro un albero. Un volo incredibile che ha attirato l'attenzione di una passante che ha immediatamente chiamato i soccorsi. Giunta sul posto l'equip del 118, il medico e i sanitari a bordo dell'ambulanza hanno prestato le prime cure al ferito, cosciente, un po' acciaccato, con qualche escoriazione ma, visto lo stato dell'auto, fortunatamente in condizioni molto migliori delle aspettative. Nel frattempo, i vigili del fuoco di mese hanno bloccato la Panda con una fune per evitare che riprendesse la sua corsa lungo il pendio. Il 79enne è stato poi trasferito con l'ambulanza alla piazzola dell'elicottero, con il quale è decollato per l'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo per ulteriori accertamenti. Impegnati nei rilievi, gli uomini dei carabinieri della Valle del Mera. La macchina è stata recuperata nel pomeriggio con l'autogru dai vigili del fuoco giunti sul posto da Sondrio.